Sei anni di ciclo riparo, sei anni che lavoriamo per cambiare la mobilità di questa città, in parte qualcosa abbiamo cambiato, anche regalando praticamente le bici come abbiamo fatto con l'asta, prezzi veramente popolari, l'abbiamo veduto e tutto è andata bene. Abbiamo avuto anche la collaborazione dell'Arma dei Carabinieri che ci ha donato biciclette ritrovate per la strada, ce le ha riportate, noi le abbiamo risistemate e rimesse in circolazione a prezzi assolutamente abbordabili per qualunque tasca. Ce ne sono rimaste, se qualcuno ha bisogno di avere una bicicletta o volesse ripararla, perché noi insegniamo a riparare le biciclette, perché almeno il ciclista è indipendente e usa la bicicletta invece da automobili. Il nostro scopo non è di riparare le biciclette, ma di insegnare alle persone ad aggiustare la loro bicicletta, per cui se avete voglia di sporcarvi le mani venite da noi e noi ve le facciamo sporcare. Il nostro scopo non è di riparare le biciclette, ma di insegnare alle persone ad aggiustare le biciclette,